Spazio al campionato, anzi direi nuovo spazio dedicato al campionato, visto che comunque questa è una nuova rubrica che si occuperà, appunto, occuperemo delle risposte che ci vengono date dai turni che mano a mano finiranno, e il 27esimo turno ci ha dato appunto delle indicazioni che analizzeremo tra poco. Prima di tutto, innanzitutto, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche a Instagram, siamo quasi 40 mira, e soprattutto supportateci con like, commenti, insomma, fateci sapere anche la vostra opinione. Dicevamo, tre punti, analizziamo oggi insieme a voi di questa giornata. Innanzitutto, in primis, la Juve, secondo me, è la vera antagonista dell'Inter. L'Inter in questo momento non perde colpi, non perde occasioni per vincere le partite, le ha vinte praticamente tutte nel 2021. La Juventus, dal canto suo, dimostra con una vittoria netta, che non solo è tornato Cristiano Ronaldo, ma insomma non avevamo dubbi, ma soprattutto ricorda che è lei ancora la campione d'Italia, e in questo momento l'unica vera sfidante dell'Inter. Si trova a meno dieci punti, ma una partita in meno, quindi potenzialmente sette, e ricordiamoci che c'è ancora lo scontro diretto a Torino, il 16 maggio, mi pare, che potrebbe, insomma, dare una possibilità. Non è facile per gli uomini di dirlo, però senza Cop, senza Champions, come l'Inter, insomma, secondo me può preparare meglio le partite, al meglio ogni giornata di campionato, e sicuramente giocarsi alla pari questo campionato. Gli uomini di che conto, dal canto loro, continuano a vincere, e quindi di conseguenza sarà molto difficile per chiunque recuperare punti su una squadra che continua a vincere. Non convince totalmente, perché comunque sia con l'Atalanta che con ieri con il Torino, forse avrebbe potuto anche non fare sei punti. Due punti poteva fare, quattro punti probabilmente, ma non sei punti. Invece è riuscito a fare sei punti, nonostante la prestazione non è eccelsa. Ieri è una partita, diciamo, a scacchi, e comunque l'Inter era sbloccato nel secondo tempo. Quindi comunque conferma di essere la squadra da battere, e secondo me sarà la Juventus che dovrà provare a farlo. Altro secondo punto, importante, è il collegato appunto alla parte alta della classifica, e sicuramente la risposta del Napoli. La risposta del Napoli nel contempo anche al calo, alla caduta della Roma a Parma. Insomma, per il quarto posto comunque diamo quasi tutti per scontato che Milan, Juve e Inter saranno le prime tre. Manca la quarta, la quarta appunto sarà il quarto posto, che se la giocheranno Atalanta, Roma e Napoli. Insomma, il Napoli ha dato una forte reazione, una forte risposta, perché comunque vincere a San Siro non è mai facile. Lo ha fatto bene, lo ha fatto secondo me convincendo. Stanno rientrando giocatori importanti nel Napoli, quindi comunque nonostante sia una piccola polveriera, lì tra De Laurentiis, Gattuso, insomma, Insigne con i compagni, insomma non è facile stare in questo momento a Napoli, nello spogliatorio partenopeo, però riescono a fare ottime prestazioni, e quindi comunque si candidano come possibile squadra per il quarto posto, insomma per la zona Champions, che sappiamo quanto sia importante. Domenica sarà decisiva la partita Roma-Napoli. Abbassiamo lo sguardo e andiamo verso la zona salvezza, zona retrocessione. Qua la cosa è molto intrigante, la situazione sta diventando molto intrigante e un punto importante è sicuramente il calo del Benevento. Tutti diranno, vabbè, ma la classifica è terzo penulta, dando il crotone quasi spacciato, Parma 19 punti, Torino 20 punti e Cagliari 22. Sì, Torino ha due partite in meno da recuperare, però occhio perché il Benevento ha 26 punti, quindi diciamo 6 punti dal terzo e ultimo posto, poi bisognerà vedere i recuperi del Torino, mercoledì ne ha uno col Sassuolo, vedremo quanti saranno, però il Benevento non vince da 11 partite. La vedo veramente in crisi, ha perso una partita bruttissima contro la Fiorentina che aveva gli stessi punti suoi, sta calando vistosamente, sta scendendo vistosamente e secondo me deve stare molto attenta perché in questo momento, se io dovessi puntare come seconda squadra, terza squadra, comunque una delle papabili per la zona retrocessione, io metterei il Benevento perché veramente in questo momento è molto in difficoltà. Altra situazione da considerare, il Parma, la reazione del Parma che comunque dopo aver fatto un ottimo mercato sta comunque reagendo, è sicuramente quella dietro che sta diciamo provando insieme al Cagliari a cambiare le proprie sorti, le sorti di quello che sembrava un destino segnato. Secondo me ce la possono fare e secondo me, ripeto, le squadre che stanno a 26 punti in questo momento Spezio e Benevento e occhio anche al Genova che ha 28 punti ma anche lei anche è in calo vistosamente, devono stare molto attenti, molto attenti perché veramente dietro non mollano e stanno giocando vedi il Parma molto molto bene. Ragazzi, abbiamo analizzato una piccola analisi della giornata appena finita, le risposte che ci ha dato il campo vi ricordo innanzitutto di il video e prossima domani prossimamente ci sarà domani il video sui pronostici della Champions League domani è impegnato la nostra Atalanta nostra nel senso che speriamo tutti che possa esserci almeno un'altra squadra italiana visto che comunque la Lazio è praticamente eliminata contro il Bayern Monaco sperando che ci sia ancora come abbiamo detto una squadra italiana in Champions League e quindi domani ci sarà un'analisi e un pronostico per quanto riguarda appunto Real Madrid l'Atalanta ma anche tutte le altre partite di Champions League importante ve lo ricordo ancora iscrivetevi al canale commentate fateci sapere cosa pensate che cosa avete visto in questo in questo giorno di campionato se c'è qualcosa che condividete o meno di quello che è stato appena detto mi raccomando ci vediamo prossimamente per tanti altri video e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao